La vita è bella, amici. Ci sono uomini che pensano solo a divertirsi. Non lo faccio mai al primo appuntamento. Ma è arrivato il momento di mettere la testa a posto. Quali sono i tuoi obiettivi a lungo termine? Hai toccato la mia mamma? Sarà l'unico modo per farli vacillare e metterli in ginocchio. Perché l'amore è un campo di battaglia. Sono innamorato di te. Vuoi sposarmi? Per il ciclo Please Love Me, Think Like a Man. Lunedì alle 21.10, solo su Cielo. Grazie a tutti.